La prima vittoria del Girone, siete partiti subito forte, volevate vincerla, che impressioni su questa partita? Sì, volevamo vincerla perché è l'ultima opportunità che abbiamo per qualificarci, quindi impressione ottima, anche se devo fare assolutamente complimenti ai nostri addossari e penso che il risultato finale non rispecchi i valori che si sono visti in campo. L'Etiopia ha giocato molto bene, sono stati sfortunati perché hanno iniziato in nove, poi sono diventati in undici, poi si è fatto male il portiere che è dovuto uscire abbandonando il campo in ambulanza e voglio fare gli auguri al portiere dell'Etiopia, Robert, che si possa rimettere il resto e spero che non sia niente di grave. Ovviamente la partita è stata condizionata da questo episodio e bene per noi, però mi dispiace molto per il giocatore dell'Etiopia che è dovuto uscire. Va bene, grazie mille.